Il treno regionale 12277 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli centrale, delle ore 11.58, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 12197 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Nettuno, delle ore 12.09, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Annuncio ritardo. Il treno regionale 12283 di Trenitalia, delle ore 17, proveniente da Roma Termini, è diretto a Minturno Scauri, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Il treno regionale 12283 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Minturno Scauri. Delle ore 17, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 12179 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Nettuno, delle ore 17.06, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 22862 di Trenitalia, proveniente da Latina, è diretto a Roma Termini, delle ore 18.28, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Non lasciate incustoditi i vostri bagagli. ... ... ...